Un'altra sfida di Mr. Gadget, li stiamo passando veramente tutti, stiamo dando fondo a tutte le sfide possibili e immaginabili per mostrarvi come si comportano questi prodotti. Stiamo parlando ovviamente del LG Nexus 5, anche se in realtà forse dovremmo dire Google Nexus 5 e poi lo vedete qua di fianco dell'LG G3 che insomma è il top di gamma, avete visto arriva in questi giorni in particolare la rete 3, lo sta spingendo tantissimo, lo trovate online, esce a 599 euro nella versione da 16 giga di memoria con 2 giga di RAM. Allora differenze fondamentali tra questo prodotto, intanto qui c'è un processore 801, qui c'è un processore che è Snapdragon 800, qui c'è un'espansione micro SD, qui non c'è, qui c'è la batteria removibile, qui non c'è, qui c'è una fotocamera da 13 megapixel con il puntatore laser e qui no, insomma avete un po' di differenze per cui dal punto di vista dell'hardware è chiaramente superiore il prodotto di LG. Ma nella vita di tutti i giorni poi queste differenze si vedono? Allora in quanto a velocità di funzionamento no, adesso vediamo intanto la dimensione, vedete che 5,5 pollici è stato fatto un ottimo lavoro da Nexus insieme proprio ad LG per la costruzione del Nexus 5 e quindi è inevitabile che la differenza di dimensione si veda e come tra l'uno e l'altro. Devo dire che i display sono entrambi ottimi, qui li vedete entrambi al massimo della loro luminosità, certo hanno degli sfondi diversi quindi la cosa potrebbe trarvi un po' in inganno, però devo dire che questo è un Full HD, questo è un Core HD, ma l'impatto generale devo dire che è comunque ottimo. Allora fatemi vedere un attimo che cosa c'è aperto per evitare i danni, volevo chiudere un attimo le applicazioni aperte per, insomma, chiudo solo così, scusate, faccio in questo modo perché c'è un punto in cui ci sono dei numeri di telefono che non vi posso mostrare, grazie. Scusate se ho questo momento in cui vi nascondo la verità. In realtà, ecco, guardate un po' il funzionamento per quanto riguarda i due prodotti per la velocità. Ci sono alcuni aspetti in cui ovviamente non ci sono grosse differenze, altri invece in cui onestamente un po' di differenze ci sono e si vedono e come. Soprattutto, secondo me, dal punto di vista, allora vediamo di aggiornare un attimo questa pagina, soprattutto dal punto di vista di alcuni passaggi all'interno del menu. Nel senso che, l'abbiamo detto più volte in questi giorni, dal punto di vista proprio della funzionalità, la differenza che c'è tra i due prodotti, proprio per alcune cose tipo l'ingresso e l'uscita, ad esempio del dialer, hanno nel Nexus 5 una velocità estremamente più alta. Guardate invece, ecco, a parità di luminosità, ci sono entrambi al massimo, c'è sempre questo effetto particolare per cui il bianco di Nexus 5 è un pelo più bianco, ma perché la luminosità generale dell'LG G3 è un pelo più bassa, credo che sia un modo per preservare anche un po' la batteria. Vedete, molto, molto, molto fluido il Chrome con LG G3, quasi altrettanto fluido, non è la stessa cosa, guardate bene, non è la stessa cosa, quasi altrettanto fluido anche invece l'impatto per quanto riguarda il G3. Vediamo, ad esempio, vedete, i tempi d'uscita, guardate la differenza tra i due prodotti in quanto a reattività, ma non è che qui ci sia un processore più letto, è stata fatta proprio una scelta estetica precisa di LG di avere questo tempo ritardato di reazione quando si attivano determinate funzionalità. Avete visto anche l'apertura della fotocamera adesso, probabilmente, come è stata leggermente ritardata. Fotocamera con una semplificazione notevole, ne abbiamo già visto più volte per quanto riguarda LG G3, vedete che tra gli step che potete utilizzare c'è, vedete, vediamo un po' modalità, il Magic Focus che è il focus selettivo, il panorama e poi la doppia fotocamera. Avete la possibilità di inserire o meno l'HDR e poi misurare la dimensione della foto e il tipo di taglio che volete, se 16,9 o 4 terzi. Però vedete che non è che ci siano poi tantissime altre funzionalità. Sapete che se tenete premuto il pulsante di fotografia viene scattata la raffica di foto, tra cui poi potete scegliere qual è la vostra preferita. Google invece con un'interfaccia fotocamera veramente molto, 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 molto semplice, potete comunque fare anche qui la sfocatura dell'obiettivo. Secondo me la cosa più bella di Google rimane Photosphere, che è un modo di fare fotografia veramente notevole. E qui poi una serie di funzionalità avanzate, tra cui ad esempio l'esposizione che potete scegliere in manuale. Però per il resto, vedete, insomma, le scelte che avete sono abbastanza contenute per quanto riguarda la fotocamera di Nexus 5. La fotocamera che comunque, insomma, tutto sommato si difende. E peraltro bisogna dire che dal mio punto di vista, avrete notato probabilmente che in questo telefono abbiamo Android L, cioè l'Hollipop. Devo dire che secondo me con Android L, per qualche ragione, probabilmente saranno APIs migliori, insomma una funzionalità migliore, le foto mi sembrano leggermente più belle. Vediamo alcune funzionalità invece come la qualità dell'audio che abbiamo provato più volte. Ho preso Viva la Vida, come al solito, dei Coldplay. Vediamo che però qui non c'è volume, vado a caricarlo. Qui sentite che... Sì, sentite... La differenza di audio è impressionante, molto più alto ovviamente l'audio per quanto riguarda l'LG G3 che ha veramente una qualità impressionante. Non è il massimo dal punto di vista della qualità, diciamo, della corposità del suono, però per il resto bisogna dire che proprio si difende ma alla grandissima. Torniamo al nostro solito benchmark di Wrecking Ball perché questo video, secondo me, ha un pregio straordinario. Il pregio straordinario di Wrecking Ball è quello di riuscire praticamente a farvi vedere in modo molto chiaro qual è soprattutto la tonalità di colore per quanto riguarda i video a confronto. Vediamo un secondo di pareggiare le due cose. Vediamo un po'. Ecco, provate a guardare. Qui vedete che le differenze non sono esagerate. La qualità a occhio nudo si vede che è migliore, notevolmente migliore. Ecco, torno un pelo indietro per vedere se riesco a mostrarvi. Vediamo un secondo. Eccolo qua. Fermandolo, ecco, qui a occhio nudo si vede chiaramente che la qualità di LG è estremamente più elevata. Però bisogna dire che la tonalità dei colori è buona entrambi, ma anche per quanto riguarda la tonalità dei colori, la veridicità, la vicinanza proprio alla perfezione della realtà di LG G3 è veramente notevole. La cosa bella è avere qualità dell'immagine spettacolare unita anche ad una, diciamo, vicinanza alla realtà dei colori che secondo me è fondamentale. Per non avere sempre quei colori dopati per cui i campi di calcio sembrano verde acido. Quindi, insomma, video comunque buono per, secondo me, per entrambi. Tenete conto anche 599, questo ormai si trova ben al di sotto dei 300 euro. Quindi, voglio dire, è quasi la metà del prezzo, ma non si vede poi dal punto di vista della funzionalità. Batteria. Allora, sulla batteria vince LG G3 a mani basse. Per quanto riguarda la luminosità all'esterno, tutto sommato, siamo lì. Per quanto riguarda l'audio in capsula, vince LG G3. Qualità dell'audio in trasmissione, vince LG G3. Che altro dimentico? L'altoparlante l'abbiamo sentito insieme. Ricezione, ma tutto sommato, devo dire che siamo lì. Forse lo vediamo anche adesso, entrambi collegati con 3. E vedete, leggermente forse più sensibile il G3, che però ha il difetto, che ho segnalato più volte, di avere un leggero ritardo nel riagganciare le reti. Dal punto di vista poi di altre funzionalità, io davvero, questi due prodotti, ho due prodotti entrambi ottimi. È ovvio che in questo momento io tenda a preferire LG G3, ma perché è molto più completo. Però bisogna dire che nella funzionalità di tutti i giorni, LG Nexus 5 è estremamente più veloce, estremamente più gradevole da usare in quanto a reattività. Ci sono delle cose che dimentico, ci sono degli aspetti che non vi ho fatto vedere. Angolo di visione di Nexus 5, qualcuno diceva che ha degli angoli di visione scarichi. Io vi direi, fatevi vedere da uno bravo, perché certo è normale che ci sia un angolo di visione migliore da parte di LG G3, però guardate che qui si parla comunque di un impatto qualitativo davvero notevole. Insomma, questi sono i due prodotti. Avete visto più o meno in linea di massima quali possono essere le differenze fondamentali? Ecco, ci sono alcune cose che magari è carino andare a vedere, soprattutto l'interpretazione dei menu. È vero che qui abbiamo Android Lollipop, quindi è un po' sfalzato. Avete visto ad esempio il tempo che ha impiegato adesso per aprire il menu? Il G3, che insomma è un po' elevato. In alcuni casi ha dei ritardi che non sono bellissimi quando lo si usa nella vita di tutti i giorni. Vedete la differentissima, proprio totalmente differente interpretazione, ad esempio del menu Android, che qui è rigorosamente in questa versione verticale. Guardate anche la velocità veramente di reazione. E qui invece è in una versione a tab. Poi soprattutto la cosa che a me piace molto di questa nuova versione, soprattutto di Android Lollipop, ma vale anche per la precedente, è la leggerezza. La leggerezza delle grafiche, delle icone, che insomma su LG non sono esattamente il massimo. Allora, sono qui. Se avete delle domande ovviamente potete farle in qualunque momento. Grazie da Mr. Gadget. Ci ritroviamo nei prossimi giorni. Credo che il prossimo confronto sarà tra LG G3 e Huawei P7. Ciao! Ciao!